Inizio, 2, 1, missione e ripetere! Magari un tutorial curato su come cominciare, premesso che io non mi reputo un esperto di questo titolo, in quanto non ho mai minimamente approfondito tutta la parte del gioco mid-late game dove si va a ottimizzare al millimetro la produzione, soprattutto con gli strumenti logici, quindi pulsantiere, tastierini numerici e tante altre cose. Intanto vi mostro l'evoluzione del mio impianto. L'impianto è stato esteso e ora ci sono due trivelle. La prima, come vi ho detto, la trovate in vendita usata, la seconda la potete produrre, guardate l'episodio scorso su Chiamato Moria, mettendo il materiale di ferro e comprando lo stampino. Qua vedete che c'è un po' di sfiato perché questa tubatura totalmente acquistata in Clotium deve essere abbinata a una trivella in Clotium e ci sto lavorando ma ci metterò una vita perché devo accumulare abbastanza Clotium per poter produrre e stampare a Moria una, la chiamo così quel luogro perché me lo ricordo molto, una trivella di quel materiale. Allora praticamente vi faccio vedere l'evoluzione, praticamente qua scaviamo, viene portato su, viene diviso, quindi se è oro. Adesso vedete che non è ottimizzata la trivella perché? Perché usando le componenti logiche piuttosto che magari qualche imbuto in più, qualche dislivello in più, si evita questo accumulo che blocca tante volte la produzione. Tutti quelli che vedete lì sotto sono rimasti, chissà per quale motivo, bloccati e quindi adesso io sto andando a sbloccare. Questa è una manutenzione che va fatta spesso e questo, adesso poi arriverò alla mia conclusione sul gioco e le mie valutazioni, dà comunque profondità al gioco. Allora qua se è gold va là e scende nel calderone, si fonde, se non è gold va di qua, se è ferro va dentro qui ed esce di là e va fuso, se non è ferro va di qua. In ogni caso qua viene, se è una gemma, viene tagliata, se no prosegue dritta, se è un cristallo di quelli per potenziare la pressione dell'acqua che vanno dentro questi contenitori, prosegue dritto e viene fuso in ingotto, se non è nemmeno quello va di qua. A questo punto se è clotium va dritto nella fonderia, se non è clotium va nel cestello. Il cestello poi va in una nuova sezione che ho da poco fatto, pianificato, con un'ulteriore linea di acqua. Ora io tolgo questo e in fretta sostituisco il secchio. Ora vi faccio vedere come funziona la nuova cosa, la nuova linea. Praticamente mi metto io qua in alto e svuoto, ovviamente è automatizzabile anche questo, è solo che non ne voglio. Metto giù e vedete cosa succede. Vengono divisi, quelli che sono zaffiri vanno qui, quelli che sono smeraldi vanno qui, e quelli che sono rubini vanno qui, quelli che sono quelli neri, insomma questi qui, gli ionici, vanno qua. A questo punto ho messo questo, che è l'unico controller logico che ho, cioè una leva da tirare e basta. Io vado a prendere, ad esempio, prendo lo zaffiero che ho qui, lo butto qua, prendo tutti gli zaffieri che ho e glieli svuoto dentro. Rimetto a posto questo perché si sa mai che poi me ne dimentichi. A questo punto io tiro la leva. La leva comprime e crea un unico zaffiero. Zaffiero che possiamo andare a pesare e vedere quanto vale. Vale 1700, solo lui. A questo punto, giusto per farvi vedere il livello ormai raggiunto da questa produzione base senza automazioni, allora intanto vado a sbloccare subito questi due qui perché sono rimasti bloccati qua. Vediamo se c'è dell'altro bloccato in giro. No, più che altro cerco il Clotium. Vedete qua è un problema perché se non cadono, e vabbè adesso sto facendo casino, e poi capitano anche queste cose, dovete ricordarvi di fissare assolutamente tutti i blocchi col martello, sennò capitano queste cose. Allora, intanto butto giù. Perché se si accumulano, vengono bloccati, bloccano tutto il flusso. Ok. Allora, praticamente io adesso fondo l'oro, ottengo l'oro. Vediamo quanto vale quest'oro. Quest'oro vale 7000. Io l'ho lasciato giù per un bel po', ho fatto un botto di soldi. Adesso ho creato questa camera con dentro un 91.000 più i miei lingotti di Clotium nella cassaforte. 100.000 è il massimo per ogni blocco di monete. Allora, io ho questo blocco qui che non è tantissimo, però lo tagliamo in due. Vado a pianificare il gioiello con due lingotti. Quindi sono divisi esattamente identici. Vado già a mettere lo zaffero qui, che è bello grande. E vado a fonderli. E mi creo l'oggetto. Ora, l'industria funziona. Ogni tanto va riparata. L'hai in alto creato questa zona dove ho messo tutte le cassette degli attrezzi. Così che vedete che ogni tubo ha 5 filtri in modo da non riparare solo questi e non dover andare sotto e riparare le trivelle danneggiate. Perché sono filtri che impediscono all'acqua di danneggiare, filtrando l'acqua. Quindi si riparano questi e sotto no. Fino a un massimo di 5, nel senso che mettendone un sesto non cambierebbe niente. Perché il massimale del filtraggio è 10 e ognuno dei filtri dà 2. Quindi 5 sono sufficienti. Questo impianto, seppure con i suoi difetti, funziona. Difetti nel senso che ogni tanto si incastra qualcosa e così via. Ok, ho fatto questo. Ora. 11.000. Cioè, ho accumulato 11.000. Se calcoliamo l'inizio del gioco, con 11.000 vi comprate tutto quello che vi serve per il primo impianto. È tantissimo 11.000. Vi comprate anche tutta un'intera tubatura in Clotium, visto il prezzo. Costa 200 il pezzo. Me li comprate tutti. Quindi, io ho raggiunto un punto in cui ho troppi soldi per quello che posso acquistare. Nel senso che volendo potrei andarmi a comprare tutti i camion, tutti i terreni venduti e probabilmente anche tutti i blocchi venduti. Uno per pezzo, insomma. Non ho problemi di soldi. Quello che subentra adesso è la voglia di ottimizzare... Adesso credo di non poterlo unire perché... No, ok. 102.000. Ok, pensavo fosse 100.000 e invece probabilmente l'ha cambiato. Comunque, con 102.000 compro quello che voglio, assolutamente. Ora. E' vero. Sto cercando di raggiungere, per quanto riguarda il Clotium, i 100 di peso per potermi produrre la trivella. E poi magari andare a ottimizzare il tutto. Ma al momento io non sento, sarò 80, 84. Ok, me ne mancano 16. Una volta che arrivo a 100 di peso, posso portarli là e produrmi la trivella che mi serve. La trivella in Clotium più efficiente, insomma. E magari trovo qualche metallo in più. Prezioso. Perché più in basso di così non posso andare in questo terreno. Ma al momento io non sono molto incentivato a fare una produzione, diciamo, ottimizzata. Ci sono le piastre che scaldano. Quindi anche la raffinazione in lingotto può essere automatizzata. Possono essere messe mille sensori indicatori. Ma al momento io non ne sento bisogno. Perché questo funziona bene. Ovvio, quello che posso fare è magari automatizzare. Quindi allungare questa... Fare un rullo qui che passa da qui e va a dividersi già in automatico. È l'automazione prossima che farò, probabilmente. Ma non sento questo gran bisogno di... E non vedo neanche questi grandi obiettivi monetari da raggiungere. Nel senso, un grande pezzo di... Non so, un mezzo che costa un sacco. Un terreno che costa un botto. E devo mettere via i soldi. Ormai sono arrivato. Potrei anche smettere di giocare. Per quanto nella mappa c'è ancora di tutto da esplorare. Perché comunque ci sono tanti altri insediamenti. Ma gli insediamenti, visto che comunque costano 7-8 mila. Quindi calcolate che ne ho fatti 11 mila adesso facendo niente. Diciamo che non mi incentiva molto il gioco. Ecco, questo è uno dei difetti che vedo in questo gioco. Ovviamente adesso questi guasti qui tante volte portano del terreno ad accumularsi magari di sotto. Dove c'è la... Vabbè, lì c'è qualcosina fisso qui. Ma lo sblocco subito. Un'altra volta si creano proprio degli ingorghi che impediscono di uscire. E va pulito. Così come vanno puliti i filtri. Ecco, in questo caso l'è successo un'altra volta. Quindi potrei ottimizzare questa cosa. Magari creando un dislivello maggiore, come dicevo prima. Questo è un problema. Perché il ferro non arriva più. Quindi devo liberarlo. E questa è carina perché nonostante tutto, nonostante il sistema funzioni, ha ancora il suo aspetto diciamo di leggi della fisica. E quindi vado a incasinarmi, vado a dover fare manutenzione e ho la voglia appunto di migliorare questo. Ma su obiettivi a lungo termine non ce ne sono. Quindi questo, vabbè, vedrò se uno sviluppatore vedrà il video oppure glielo scriverò io. Perché sarebbe bello magari poter avere qualcosa di più costoso, di più difficile, difficilmente raggiungibile insomma, se non con il duro lavoro. Ed è il bello di questi giochi. Adesso vedete qui, c'è finito dentro del ferro di là e se il ferro va nell'oro, vedete cosa succede, saltella fuori. Quindi è un casino. Adesso sto liberando sta cosa, devo migliorarla, devo migliorarla assolutamente. Ora, io vi chiedo, a netto dei difetti, a parte che dovranno aggiungere nella prossima patch, nella 2.2, un mezzo nuovo per scavare. Quindi sarà possibile con una trivellona scavare sotto terra, a meno che non ho letto male, l'hanno già aggiunta ed è lo schiacciassassi che ho visto. Dovranno comunque metterci mano ancora al gioco, quindi il gioco è in completo di venire, in continuo di venire anzi. Ma detto questo, io vi chiedo, intanto sto facendo un lavoraccio che potrei fare con la questa, vi chiedo se vi interessa un tutorial su come iniziare il gioco. Cioè se il gioco vi ha ispirato, ho visto che qualcuno di voi già l'aveva comprato la volta scorsa, quindi... Adesso, il rischio è sempre quello di tirare la roba in giro dove non deve andare, quindi... Ok, vedete che però intanto sto sistemando e tiro la roba dove non deve andare, però... Anche lì c'è andato giù, ma pazienza... C'è andato dell'oro, lì mi sa, o è forse Clotium, vediamo. Vediamo, magari siamo fortunati del Clotium. Sì, è Clotium, perfetto. Ok, abbiamo sistemato. Clotium l'abbiamo fatto, quindi lo possiamo già fondere e vado di là a aumentare il mio... La conta del mio metallo che mi serve, devo arrivare assolutamente a 100 ed è sonore che sto aspettando. 86, vedete quanto sale lentamente, devo arrivare a 100, quindi devo lasciarlo andare avanti un po'. Niente, c'è ancora un gran casino perché comunque ho spostato, ho cambiato tubi, insomma... Da fare ce n'è, vi fa andare la mente, vi... È divertente il gioco, assolutamente. Vi consiglio l'acquisto, sì, assolutamente. Al netto dei difetti che ho detto, che magari sono cose risolvibili, insomma, ma... Se vi va poi di scervellarvi per automatizzare tutto, sappiate che ci sono dei canali, non in italiano ovviamente, che hanno ottimizzato la qualunque e quindi potrete vedere che cosa si può fare in endgame. Però intanto vi chiedo, se siete interessati a vedere un tutorial su come cominciare, o magari una live o un video comunque lungo, un'oretta, un'oretta e mezza, dell'inizio, di tutta la fatica che si fa all'inizio per mettere da parte i primi soldi, dove anche solo 200-300 monete sono tante, mentre prima io ho fatto una collana che ne valeva 22.000, quindi... No, 41.000, ecco. Quindi, e calcolate che mocchi così ne ho in giro già lasciati ai negozi, perché se devo comprare non mi porto dietro i soldi, i soldi li ho già lì. Adesso qua ho tirato via tutto. Qua prima ho comprato della roba, infatti io qui ce ne ho 2.000 e mi posso comprare questi, me li metto già qui in conto. All'inizio sembrano tanti, 200, ma 200-600. Questi qui hanno dentro tot chiave inglese, ogni volta che ne usate una si elimina dalla borsa e quando sono tutte consumate sparisce, quindi però è tutto comodo perché lascio qui e riparo l'occorrenza. Fatemi sapere, in questo terzo e probabilmente, salvo complicazioni, salvo vostri commenti numerosi, sarà l'ultimo video su Iron Eer, sto per dire Astroneer, ma quella è un'altra cosa. Fatemi sapere e alla prossima. Ciao ciao. Fatemi sapere e alla prossima. Fatemi sapere e alla prossima.